1. Gentilissimi ben trovati all'appuntamento di oggi mercoledì 10 agosto. Il focus del giorno è il tanto atteso dato sull'inflazione degli Stati Uniti che fortunatamente rallenta con i prezzi al consumo invariati rispetto a giugno. Ragione per cui il caro vita potrebbe da ora abbandonare il livello massimo ma soprattutto gli operatori si aspettano una Fed meno restrittiva. In questo clima i listini europei dopo un avvio cauto accelerano al rialzo. Vediamo come è andata Piazza Affari con il grafico del nostro Fuzzimib che dopo la notizia ore 16 circa impenna sopra i 22.700 livello che poi troviamo anche in chiusura. Il progresso finale sfiora il più 1. Analogo all'andamento del DAX che riconquista i 13.700 con un rialzo del più 1,23%. Lo slancio degli indici di oltroceano in questa prima fase di contrattazioni è molto più marcato. Di fatto il Nasdaq si sta muovendo sopra i due punti e mezzo di progresso mentre il Dow Jones ha superato il punto e mezzo. A Milano Prismian promosso dagli analisti di intesa si aggiudica la Pol milanese poco sotto al più 4%. Il titolo si riposiziona sui livelli di gennaio. Analogo il risultato percentuale di Iveco e rimanendo tra gli industriali STM si aggiudica un ottimo più 3,39% mentre Interpump in Rally supera il più 3%. Dopo il crollo di ieri in recupero finecchio più 3,31% mentre tra i titoli in controtendenza Tenaris è l'unico a terminare sotto al punto percentuale. Un altro titolo del settore oil a chiudere in rosso è Eni poco sopra il mezzo punto percentuale. Poco sopra al meno 1% troviamo Telecom e A2A mentre Banco BPM supera il mezzo punto di passivo. Sul mercato dei cambi l'euro guadagna ancora terreno sul dollaro americano superando il più 1%. Attualmente il cross euro-dollaro quota 1,035 perde terreno invece sulla divisa nipponica e solo qualche decimo di punto sulla stellina britannica. Per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento. A domani, arrivederci!